Potente appara ragazzi, qua Vax, l'ho giungato, oggi sono da solo e sono qui a presentarvi finalmente questo mio primo episodio della serie stra easy Cioè, non stra ma proprio easy, che porterò, credo, avanti sul mio secondo canale Perché infatti di cosa si trattava questa serie? Ragazzi, questa qua è il semplice, proprio ma semplice semplice, road to glory Ho chiamato anche il italianizzato come la scalata E infatti io non avevo praticamente mai proposto, meglio proposto sì, ma mai concluso una scalata su un FIFA nel mio canale E adesso vi starete dicendo, o meglio, state pensando, Maxel stai facendo il Potiscitella E ragazzi, Potiscitella è sì una scalata, ma un po' più articolata perché innanzitutto c'è la gestione del budget virtuale, se possiamo così definirlo E poi secondariamente ormai si è unito, è diventato anche quasi una sorta di road to pack E quindi io dato che avevo anche voglia, appunto perché non sono mai riuscito a portarmi interamente una scalata sul mio canale Ho detto, eh no, eh no, eh no, noi dobbiamo provare a fare, anche solo provarci, ecco perché poi non è neanche detto che la finirò Perché hanno aumentato anche le divisioni, quindi dieci sono veramente lunghe Comunque ho detto, ma io mi diverto a fare anche delle partite con una squadra Con elementi abbastanza easy, o meglio proprio riniziare da capo tutto l'ultimate team Quindi perché non mostrarvi anche voi che cosa io faccio per vincere le divisioni E quindi ho detto, ma sì dai, facciamo questa serie sul secondo canale Perché sul secondo canale? Perché innanzitutto non mi sembra una serie abbastanza tattica da poter metterne il primo Ma secondariamente perché come sapete sul secondo canale io non carico spessissimo video O meglio, li carico quando posso e ovviamente quando voglio Quindi voi, proprio non è che ve la dovete aspettare ogni giorno, ogni due giorni Voi ve la aspetterete così, come sorpresa, appunto anche per poi passare un 6 o 7, 5, 6, 7 minuti in compagnia Adesso io cercherò di caricarvele, più episodi possibili, mettiamo a caso un 2 o 3 a settimana Cercherò di fare E poi comunque si vedrà Ma un'altra cosa che inizierò sul secondo canale è anche quella specie di walkthrough Del mio primo gioco che ho avuto sulla mia prima console Che come ho già detto è stata l'Xbox normale Quindi ragazzi spero che questa idea vi piaccia E... lo so che non è... ma non so neanche se vi aspettavate una serie migliore Però io vi avevo detto appunto di non... di non aspettarvi una cosa stramagica Appunto perché era una cosa che ormai si fa alla stragrande, la fanno quasi tutti Però appunto io volevo provarla perché non ve l'ho mai proposta E poi sarà anche, non dico interattiva, però un po' sì Perché magari nel primo episodio oppure nei primi episodi vi chiederò che giocatore comprare Oppure se volete che prima io vi faccia una squadra di bronzo con 100 di intesa per poter magari vincere le prime divisioni Per poi passare ad una dall'argento oppure anche oro direttamente Quindi spero che un po', diciamo, queste sorti di idee vi piacciono Poi secondariamente ragazzi non ho ancora dato un nome a questa serie Infatti io ero strane indeciso Non volevo chiamarla Road to Glory solamente oppure come anche la scalata Ma volevo un po' qualcosa di più tattico Tipo il mio nome della squadra si chiama Axels FC per indicare appunto la squadra di Axel Una cosa abbastanza ambigua E magari se voi mi trovate un nome articolato, basato sul nome della squadra sarebbe stramagico Oppure era anche bello Axels RTG proprio neanche Road to Glory RTG quindi un po' da Paxi Però appunto io non lo so Aiutatemi a decidere Quindi se potete scrivete nei commenti un nome che appunto mi consigliate di dare A questa serie che è una normalissima scalata Poi alcuni di voi mi avevano anche detto Perché alcuni di voi non so come l'avevano già capito Mi hanno scritto per messaggio E mi avevano consigliato di chiamarla tipo Axels Victor Una cosa Axels Glory Adesso non mi ricordo comunque Poi scrivetemi nei commenti il nome che mi appunto consigliate di dare a questa serie E questo spero che vi piaccia Poi un'altra cosa Domani Oppure dopo domani Adesso si deve vedere per quando riuscirò a finire di editarle Usciranno Le top 5 pack opening reaction Che sono venute veramente Cioè o meglio Spero che secondo me sono venute abbastanza bene Quindi sono anche abbastanza contento Voi aspettatele Perché appunto poi sarà anche il video speciale per i 40.000 crediti E sì ancora È la quinta volta che dico 40.000 crediti 40.000 iscritti Quindi preparatevi Stay tuned ragazzi O domani o dopo domani andate sul mio canale e andate a vedere Perché dovrebbero essere anche abbastanza belle Comunque adesso vi ri Vi aderassumo un attimo che cosa ho fatto in questo primo episodio di questa nuova serie Praticamente all'inizio sono andato a giocare con gli 11 titolari O meglio la squadra predefinita di Falcao E Falcao mi è stato espulso al quinto minuto Però comunque ho vinto anche perché mi sembra che io giochi a dilettante se non esperto Quindi una cosa abbastanza facile contro il computer E poi sono andato a fare le prime partite online Anzi no ho aperto prima il pacchetto che mi avevano regalato di bronzo Avevo trovato un attaccante veramente forte Ora non mi ricordo il nome Comunque era molto veloce Quindi i giocatori veloci soprattutto all'inizio sono da utilizzare molto Infatti nelle prime due partite che farò Troverò degli avversari che non è che sapevano difendere al massimo Poi ovviamente avevano delle squadre Il secondo no ma il primo aveva proprio la squadra iniziale Quindi è stata anche una vittoria abbastanza semplice Anche perché dopo il 2 a 0 ha iniziato a non giocare più E è finita tipo 7 a 0 8 a 0 ho fatto anche gol col portiere Quindi mi sembra una cosa anche abbastanza magica Poi invece in seconda partita Trovo un avversario abbastanza forte Infatti al 36esimo ho firmato solo al 36esimo 1 a 0 poi subito lui avrà pareggiato Però poi ho iniziato a dilagare Quindi mi sembra una cosa abbastanza ambigua E poi ragazzi voi io volevo sapere Adesso comunque le cose le state vedendo Questo qua era più una sorta di video aggiornamento Dove vi introducevo alla serie Volevo sapere anche una vostra opinione su questa serie Poi poi parlando un attimo di video che farò Io vi voglio caricare un magico squad builder Ma mi serve ancora o meglio sto cercando di prendere un giocatore Quindi aspettatevi anche uno squad builder Insomma uno squad builder abbastanza tattico Poi iniziano con le FacuTime Insomma questi mesi sono abbastanza stratatici Perché usciranno sempre Non dico nuove sere però farò sempre più episodi di varie sere Come ad esempio FacuTime che dicevo di farne uno o due al mese Ne ho fatto uno a dicembre e poi basta Quindi è una cosa un po' poco tattica Comunque ragazzi detto questo Spero che il video vi sia piaciuto Vi ricordo di passare ovviamente dal secondo canale Che si chiama Oaxel V2 Il link lo troverete o in alto a destra E ovviamente in descrizione Ripeto si chiama Oaxel V2 Mi raccomando andatevi ad iscrivervi E detto magari lasciate anche un mi piace qua Per far vedere che vi piace questa serie Vediamo se raggiungiamo Io ne chiedo solo 1500 Solo Per me sono tantissimi però Chiedo 1500 mi piace E mi raccomando scrivetemi il nome che mi consigliate E detto questo io vi saluto E vi dico potente Pala al centro Il prossimo video Bolla Grazie a tutti